ragazzi benvenuti in un nuovo episodio di di sonic advance 3 nello scorso episodio c'è il primo abbiamo fatto il primo atto e ora faremo il secondo se so dove cazzo si trova sto secondo atto eccolo ok iniziamo vorrei usare pure tails però vabbè iniziamo la base è più veloce in questo atto ve lo giude non ho mai giocato ho giocato in un sacco di titoli di sonic ma sto sonic advance 3 no cioè non ho mai giocato neanche i precedenti advance 2 so solo che è la prima apparizione di cos'è la reale è la reale di cream saltiamo qua nel frattempo ah ho capito capisco wow qua dovrebbe essere più adatto tails però allora eh ho perso ricominciamo qua dobbiamo rompere il muro prendere il ciao 7 ciao rimasti comunque non ho mai giocato a sto cioè ai titoli advance e non so neanche la storia però mi hanno detto che sonic advance 2 è più bello del 3 perchè sonic può fare l'attacco avvitato qua no da come si vede e infatti l'attacco avvitato serve di più eh vabbè dopo sonic advance 3 possiamo fare pure i precedenti se vuoi ok no non tornare indietro cavolo si ok ma dove cazzo va ma no che cazzo ne sapevo no allora no no l'ho mancato di brutto ma qua i comandi sono un po' a cazzi dei loro eh allora rifacciamo sta strada eh di nuovo qua madonna ok 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 abbiamo preso il checkpoint non sto cavendo niente ve lo giuro non sto cavendo niente ve lo giuro rompiamo sto muro di qua Eh sì, ok No Che cazzo ne so io qua No, ve lo giuro, non ci ho mai giocato a sto gioco È figo, però dal telefono Eh, mi riesce male Cosa? Come cazzo ho fatto a per... Allora Raga, non giudicatemi di come gioco Perché questa è la prima volta che gioco a Sonic Advance Vabbè, come Sonic 1, 2, 3 È 2D Come Sonic Colors 2D, però È molto più difficile Aspettate che salgo sopra sta piattaforma Senza farmi schiacciare da qua Ok È il telefono pure a 25 No, ma che cazzo devo fa' qua? Ma forse è un imbroglio Ah, di qua Ah, no, ho capito In realtà devo andare di qua No, non mi sto capendo Veramente No, io dovevo scegliere Che è qua, però Ok Ma dovevo sti moodi di merda Ok Comunque No, mi sto concentrando al livello, però È figo, per carità Però, mamma mia Dal telefono è proprio scomodo E dovrei fare così io per tutta la serie Ok, siamo arrivati Bronzo Bronzo Eh, ok Abbiamo fatto Nel prossimo Il prossimo sarà il terzo Se lo troviamo Sì Il prossimo sarà questo Quindi ciao E alla prossima